Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 22 marzo 2021, andiamo insieme a guardare la chart, Bitcoin in questo momento è 57.000 dollari all'incirca, si trova stretto all'interno di una formazione, probabilmente un triangolo orizzontale, quindi guardiamo insieme quali sono le diverse possibilità, guardiamo il time frame delle 4 ore, anche il time frame giornaliero, analizziamo la possibilità che il rising wedge che vediamo sul time frame giornaliero esploda al rialzo, in ultimo guardiamo anche una chart presa da Looking to Bitcoin su cui non ci aggiorniamo da qualche settimana, quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi iniziamo subito, guardiamo la chart, qua siamo su Binance sulle 4 ore, Bitcoin si sta muovendo probabilmente all'interno di un triangolo orizzontale stretto tra un livello di resistenza discendente e un livello di supporto invece ascendente, quindi Bitcoin sta testando sia il supporto di una trendline di lungo termine che vedremo tra poco sul giornaliero che vi ho mostrato anche ieri, e c'è anche una trendline di breve termine sulle 4 ore, quindi in questo momento sembra aver rimbalzato su questa trendline di supporto, si tratta di un triangolo orizzontale con resistenza e supporto tra loro convergenti, pertanto nella maggior parte dei casi si vede la rottura del livello di resistenza verso l'alto. In questo momento Bitcoin sta provando a riposizionarsi al di sopra di un livello molto importante per la settimana, sto parlando del livello P, quindi il punto di supporto e resistenza più importante nell'arco di questa settimana che si trova proprio a 57.100 dollari all'incirca, quindi in corrispondenza del livello prezzi attuale di Bitcoin. Quindi sicuramente per ipotizzare una continuazione rialtista vogliamo vedere la chiusura della prossima o anche della successiva candela delle 4 ore al di sopra dei 57.100 dollari ed eventualmente successivamente una rottura di questa trendline discendente di resistenza per arrivare a testare il livello R1 a 60.890 dollari violando anche questo massimo ormai raggiunto il 20 marzo scorso. Invece nel caso in cui ragazzi dovessimo andare giù guardando i livelli statici di supporto e resistenza di questo indicatore guardiamo la corrispondenza del livello S1, quindi il supporto numero 1 si trova a 53.480 dollari. Queste linee che vedete sulla chart sono delle medie mobili, quella rossa quella delle 50 candele sulle 4 ore, in questo momento il prezzo deve riportarsi al di sopra di questa media mobile perché altrimenti può essere che la stessa spinga il prezzo verso un breakout ribassista e poi abbiamo invece la media delle 200 candele sempre sulle 4 ore che sta arrivando in corrispondenza del livello S1. Quindi ragazzi se dovessimo andare giù sicuramente un altro livello da guardare oltre altri livelli che abbiamo guardato nel video di ieri sicuramente è il livello dei 53.400 dollari all'incirca. Ragazzi guardiamo poi sempre la chart giornaliera la stessa che vi ho mostrato ieri come dicevamo siamo probabilmente all'interno di una formazione ormai molto grande bitcoin si trova all'interno di un rising wedge per cui una formazione che vede il prezzo muoversi verso l'alto ma è una formazione che nella maggior parte dei casi non sempre ma le probabilità sono verso una possibile rottura del livello di supporto e quindi un ritracciamento per bitcoin. Tuttavia ricordiamoci che siamo in un bull market le medie mobile sul giornaliero sul settimanale sono favorevoli invece ad una continuazione rialzista. Questa linea che vedete qui questa verde è la media mobile dei 20-21 giorni e siamo proprio in corrispondenza del supporto quindi può essere che il prezzo venga sospinto verso l'alto da questa media mobile. Quindi ragazzi se dovessimo continuare a salire quindi vedere un breakout rialzista aspettiamoci eventualmente come dicevamo un contatto con la parte superiore di questo rising wedge magari a 75 80 mila dollari poi bitcoin deciderà se eventualmente proseguire la sua corsa rialzo e rompere la resistenza verso l'alto o altrimenti violare questa volta il supporto e continuare per una correzione più più grande. Se ragazzi guardiamo insieme cosa è successo per esempio qualche settimana fa in un rising wedge qua siamo sulla chart delle quattro ore voglio mostrarvi che cosa succede nei rising wedge quando abbiamo invece una rottura che è rialzista quindi quando si osserva la rottura della resistenza invece che del supporto e possiamo eventualmente supporre che questo scenario nel caso in cui bitcoin dovesse violare la resistenza verso l'alto potrebbe anche ripetersi su scala giornaliera. Questo ragazzi che guardiamo qui è un rising wedge vedete qui il prezzo rimbalza stretto tra supporto e resistenza a un certo punto riesce a violare il livello di resistenza dopo un piccolo pump si riappoggia per trovare supporto sulla stessa linea che era resistenza e poi culmina il movimento rialzista con un importantissimo impulso rialzista questo ragazzi è molto simile a quello che abbiamo visto alla fine del bull market del 2017 quindi anche lì un rising wedge che però non si è concluso con una rottura del supporto ma con un pump parabolico che ha segnato un po' la conclusione del mercato rialzista successivamente infatti vedete come il prezzo addirittura torni repentinamente verso il basso praticamente all'inizio del rising wedge quindi questo potrebbe essere uno scenario possibile rialzista nel breve medio termine per bitcoin con la rottura del livello di resistenza verso l'alto un pump magari verso i 90 100 110 mila dollari poi successivamente un'importante correzione che potrebbe poi ripartire per la seconda parte del 2021 con eventualmente il secondo picco del bull market a fine di quest'anno queste ragazze ovviamente sono solo possibilità fatemi sapere assolutamente voi cosa ne pensate se vi sembra uno scenario possibile ragazzi in ultimo guardiamo questa chart qui sempre presa dal sito looking to bitcoin che ci mostra alcune chart sia di analisi tecnica altre di analisi on chain per capire quando conviene comprare bitcoin quando conviene invece vendere comunque non conviene comprare quando il prezzo si spinge al di sopra di questa linea rossa la media mobili dei due anni moltiplicata per 5 è storicamente un cattivo momento per comprare ed un buon momento per vendere per prendere profitti se si detengono dei bitcoin attenzione perché la fase in cui il prezzo si spinge al di sopra di questo livello può essere molto lunga può durare magari anche un mese o un mese e mezzo e il prezzo può fare comunque dei moltiplicatori importanti all'interno di questa zona quindi sempre fare molta attenzione però sicuramente è un momento in cui comprare è decisamente molto rischioso ragazzi se bitcoin dovesse continuare a salire e violare il precedente massimo di 62 mila dollari sicuramente arriveremo nella fase di al di sopra di questo livello quindi massima attenzione potrebbe essere l'ultima spinta rialzista l'ultima spinta parabolica la fase più intensa del bull market per poi vedere un'importante correzione praticamente come accaduto nel 2013 con un doppio pump prima ad aprile e poi successivamente a fine anno fatemi ragazzi sapere ovviamente qual è la vostra opinione per oggi è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao